Oggi vi mostrerò delle tattiche per Clash Mini di cui una veramente fenomenale che ragazzi non potete non conoscere se volete progredire nelle leghe e comunque migliorare in generale su Clash Mini mi raccomando seguite tutto il video perché ce n'è una che è veramente una bomba e poi preparatevi perché domani ragazzi ci sarà il primo deck, il miglior deck con la Shield Maiden infatti ci ho messo un po' ad elaborarlo, anche per il deck specifico ci sono delle tattiche ma quelle che vedremo oggi invece vanno bene per tutti quindi andiamo in duello, poi andremo a vedere anche la Rumble e vi mostro appunto qual è la tattica allora mi trovo nell'arena elettrica quindi iniziamo con la tattica dell'arena elettrica dovete sapere che l'arena elettrica va a caricare per metà la super di un eroe o un mini quindi in sostanza la barra sotto che vediamo ha i mini solamente se l'abbiamo fatto l'upgrade con le abilità e agli eroi come avete visto quindi la Shield Maiden aveva già iniziato la battaglia con metà abilità completa ovviamente adesso io mi sono messo a parlare quindi non mi sono neanche concentrato su cosa piazzare però quindi la prima tattica qual è? se avete la Shield Maiden posizionare la Shield Maiden direttamente sul blocco a meno che non sia troppo indietro in quanto ragazzi la Shield Maiden tenetela sempre davanti nelle prime due righe mai nelle due righe dietro quindi in questo caso ecco ragazzi in questo caso è veramente perfetta facciamo che ad esempio mettiamo così ma se mi desse magari delle truppe migliori ok facciamo una cosa del genere e sempre nell'arena elettrica ragazzi ricordatevi ecco qua non l'ho fatto perché sono stupido ma nell'arena elettrica non quella dell'ealing mentre qui dato che avete questa cosa che potenzia la super sicuramente ovviamente metteranno un mini sopra lì quindi se avete lo Spear Goblin che va a beccare con una lanciata super forte all'inizio l'eroe più indietro ovviamente vi può andare a colpire sicuramente un mini che l'avversario avrà piazzato sopra qui quindi ad esempio io vedo che là in fondo c'è la carica là sopra allora andrò a metterla lì adesso però ci ritroviamo con la ricarica della super che è di fianco in questo caso io cosa ho fatto però? non ho messo la Shield Maiden lì questo perché ragazzi? uno vabbè adesso lui ha usato la mia stessa trafica che vi ho detto quindi di mettere lo Spear Goblin e mi ha ucciso il mago però non ho deciso di mettere la Shield Maiden perché effettivamente se è troppo laterale addirittura già in seconda fila ecco non ve lo consiglio magari se è in prima fila potete pensarci però comunque ok in questo caso possiamo ancora vincere la partita quindi vediamo se riesco a darvi altri tip ad esempio vediamo in questo caso ok abbiamo lì quindi ci conviene quasi ecco non mettere nulla questa è un'altra tattica si può ad esempio allora lui gli mettiamo questo però quello che posso fare è non mettere nulla quindi magari lui mi rimette lì lo Spear Goblin ma si ritroverà fregato perché io adesso non ho più messo niente quindi anche questa è una tattica da tenere in considerazione insomma dovete cercare in modo che l'avversario vi faccia meno danni possibili ecco in questo caso guardate l'ho fregato perché lui ovviamente credeva lo mettesse lì dato che quella posizione non era abbastanza strategica per me ho deciso semplicemente di non usarla ed è così che si vince bene quindi questa è la tattica dell'arena elettrica ok adesso invece siamo in Rumble e quindi parliamo di una tattica che è escludiva per il Rumble dunque vabbè allora per quanto riguarda l'inizio in realtà non ho molto da dirvi perché alla fine l'inizio è sempre lo stesso nel senso quando siamo in una Rumble non dobbiamo stare attenti all'avversario perché tanto ci cambierà però quello che dobbiamo vedere è adesso nel secondo round infatti se ovviamente notate lo avrete visto se giocate a Clash Mini abbiamo questi mini trasparenti qua che ci indicano l'ultima posizione che l'avversario ha fatto questa cosa ragazzi succede anche a noi quindi anche l'avversario vedrà l'ultima volta in cui abbiamo messo i mini cosa dobbiamo fare per ovviare questo problema? semplicemente specchiare quello che abbiamo fatto in realtà questa tattica può essere usata anche nei duelli io però vi consiglio soprattutto di farlo nella Rumble perché ai duelli è ovvio che voi andate a cambiare la posizione ma in questo caso magari l'avversario che vi trovate dato che è nuovo va a ragionare a seconda di come voi avete messo le truppe quindi qual è la cosa migliore da fare? specchiare tutto quanto ora a me mi avete visto perdere ma perché io ragazzi ve lo dico non sono capace di parlare mentre gioco ed è per questo che poi fatemi sapere nei commenti ma non so se andrò a fare live quindi quello che vado a fare adesso è di nuovo specchiare tutto quanto magari metto questo così ovviamente ragazzi facciamo sempre gli upgrade quello che possiamo fare è mettere il mini pecca così o addirittura oltre che a specchiare ragazzi potete anche direttamente ad esempio il mini pecca invece che specchiarlo qui l'ho addirittura spostato questa è un'altra cosa molto utile da fare in questo caso in quella casella addirittura non mi aveva messo nulla quindi effettivamente ci ho guadagnato anche se vediamo se riuscirò a vincere non lo so perfetto allora ragazzi mi raccomando questa è una tattica base di clash mini tenetela sempre in mente in realtà anche quando fate i duelli non solo per la rambol io adesso l'ho detto per la rambol però più vado avanti più mi rendo conto che serva anche nei duelli andiamo a vedere ad esempio che formazione ha usato lui vediamo che l'ha messo in diagonale anche se lui specchiasse sappiamo che comunque lui va a mettere le cose in diagonale quindi quello che posso fare è mettere il miner qui upgradeato perché sto sicuro che dietro gli fa qualcosa quello che posso fare invece qua davanti anzi tenere dietro il mini pecca forse mi converrebbe e in questo modo che è vero non ho specchiato il mago ma forse va bene così vediamo se riusciamo a fare qualcosa perfetto guardate il miner che va lì dietro ok quindi ragazzi bisogna sempre io lo sapevo che lo avrebbe specchiato perché questo è comunque una base di clash mini ma che usano molti però non specchiare ricordatevi che è ancora peggio quindi se siete indecisi tra lo specchiare o no comunque fatelo in questo caso comunque nonostante io sapessi ho perso e di pochissimo guardate quella vita dello shieldmaid ma io non ci credo ragazzi vabbè siamo arrivati nella top 4 quindi mi raccomando tattica specchio è la migliore non dimenticatevi mai di specchiare o comunque cambiare posizione alle truppe una seconda tattica è poi quella di non mettere le cose al centro questa è un po' rischiosa nel senso che poi in attacco siete deboli ma adesso io quello che ho fatto è far vedere che ho messo già ben due truppe al centro tutto il resto l'ho lasciato non fatto quello che posso fare adesso è semplicemente fare così questo ovviamente è soprattutto utile se l'avversario ha lo spear goblin magari vado a fare l'upgrade a questo e in questo modo non mettendo nulla in centro magari lui può pensare ok adesso guardate mi ha messo ben due truppe in centro quello che ho fatto io è mettermi di lato in questo caso si è vero non va ad incidere molto sulla battaglia ma se avete avversari con lo spear goblin magari l'arcere magico che se ve lo metto in centro e voi avete tante truppe in centro beh sono problemi ma se in realtà vogliamo generalizzare la regola è non mettere tutte in una fila qua ho sbagliato mettere addirittura tre nella stessa fila al massimo quello che vi consiglio di fare è metterne due poi facciamo che gli mandiamo il miner là dietro adesso lui speccherà spero specchi ma al limite ok comunque l'upgrade del miner lo fa andare più veloce e ci uccidiamo il goblin a vicenda ah no io avevo una stella in più quindi meglio così ok e come vedete adesso riesco a fare molto cavoli comunque effettivamente è molto forte lo scapegone elettrico vabbè lasciate stare il fatto che ho perso io adesso avevo bisogno di dirvi questo vediamo se mi capita l'arena healing temple che ragazzi vi ricordo si sblocca silver 3 quindi se non trovate ancora l'arena elettrica oppure l'healing temple è perché dovete giocare qua dovete schiacciare ranked mode salire di trofei quindi salite a prendista 2 a prendista 1 e poi a silver 3 sbloccate le nuove board ok l'ho chiamata e detto da qui meno male e vi spiego un po' cosa bisogna fare o meglio innanzitutto vorrei iniziare con cosa non bisogna fare non mettete il dart goblin qui lì dietro perché? semplicemente perché è inutile infatti il danno che fate all'inizio alla truppa che mette lì sopra se voi li tirate ok si il dart dite ah gli faccio già danno all'inizio perché tanto so che lo metterà lì in realtà è una delle cose più inutili del mondo a meno che non mettete tutte le truppe lì vicino ma poi se ha messo magari ad esempio scheletro gigante che vi droppa la bomba lì ragazzi siete finiti quindi quello che vi consiglio di fare è non mettere il dart goblin lì ma come ho fatto io mettere il mini pecca o comunque truppe tank che possono andarvi subito a distruggere chi c'è lì e addirittura quello che potete fare è mettere voi non con l'ealing sotto lo scheletro gigante io in questo caso non ce l'ho nel mazzo e per quanto riguarda qui a differenza dell'arena elettrica quello che potete fare è metterlo anche se ad esempio ce l'avete in una posizione che non è del tutto comoda tipo questa ricordatevi di far andare dietro le truppe perché in questo caso in questa arena non so perché ma ho visto molti che vanno a mettere le truppe dietro vediamo ecco in questo caso comunque due le ha messe però mi è capitato veramente di vedermi file complete dietro sinceramente non ho capito esattamente se c'è una tattica riguardante questo io non ne ho mai trovato tutto il vantaggio però e boh questo ho visto che è la tendenza quindi per la legge dei grandi numeri dovrebbe aiutarvi in questo caso non mi sta aiutando allora abbiamo perso la battaglia ma non la guerra quindi vediamo se mi viene una posizione strategica che vi posso magari anche spiegare per quanto riguarda la piastrella dell'ealing ok si può fare si può provare a fare una cosa del genere innanzitutto metto lui in centro perché non so dovevamo mettere le truppe dietro facciamo che lo mettiamo qua davanti con l'upgrade che ragazzi l'upgrade a due stelle del miner è veramente OP e quello che possiamo fare è fare l'upgrade a lui allora vediamo se mi funziona quello che ho fatto è fare questo schema qui quindi con quattro laterali e uno dietro questo è utile con molte formazioni di mini in realtà non ha un game in cui vi giocate la bandierina quindi significa che l'avversario può avere tante truppe messe giù nel campo però vi dico che veramente come posizione non ho capito esattamente il perché ma è perfetta cioè qualsiasi schema vi metta davanti l'avversario mettere così oppure al contrario quindi fare il cerchio dietro e uno davanti è veramente utile ora mi è venuta la stessa cosa di prima però vorrei comunque cambiare cavolo quindi ok in realtà potevamo spostare più avanti la shield maiden vabbè ormai va così e più che altro l'arciere sta prendendo veramente pochissime truppe ma in ogni caso abbiamo vinto e questo schema ve lo dico è utilissimo non ho capito come mai si vinca ma è tipo uno schema magico che funziona e vediamo se mi farà prendere anche la prima bandierina quindi lo vorrei applicare allora proviamo a fare così così questo lo scambiamo qua così ok più o meno ci siamo per quanto riguarda lo schema magari mettiamo lui davanti a proteggere questo che aggrediamo facciamo così e in effetti lui alilingerà quindi forse ok facciamo così e vediamo se riusciamo sinceramente non so come funzioni bene se si mette di fianco questo schema però vediamo cioè ma ragazzi ma OP ma ragazzi ma è OP io sinceramente ve lo giuro provate anche voi ma è uno schema magico va bene si prende e porta a casa la vittoria quindi usciamo e ragazzi domani vi porto questo deck perché non ve l'ho detto però ve lo spoilerò è questo qui il miglior deck che ho trovato fino ad adesso che sono passati 4 giorni dall'uscita di Clash Mini è vero io comunque diciamo che per 2 praticamente non ci ho giocato perché ho dovuto editare i video rispondere ai commenti fare copertine però ragazzi questo deck che è proprio questo qui ve lo analizzo domani che vi è già uscito il video quindi lo trovate già vi sarà già comparso ma comunque qui invece vi è comparsa la playlist completa di Clash Mini perché ci sono tante tante cose utili quindi vi consiglio di guardarla per oggi è tutto quindi ci vediamo domani e poi in futuro con altri video ciao ragazzi